Ciao sono di nuovo io, sarei da 9 e oggi vi farò vedere i mezzi di trasporto di Halo 4 di Lego Iniziamo con il Warthog che è una jeep è una jeep con un mitragliatore sopra Ok, il Warthog ha una torretta mitragliatore poi una torretta mitragliatore una cabina per il pilota e un posto per il passeggero mi cade sempre, non c'era con me ecco il mitragliatore si può girare e anche le ruote ecco qua ci sono i fari e le luci per i freni e qua per dare un po' di effetto il cofano bucato ecco qua e siamo già uno ecco ora vi farò vedere il mio pezzo forte questo è il carro armato ecco questo carro armato ha quattro cingole una qua una qua e due qua io l'ho fatto io l'ho fatto per far scalare ogni ogni rialzamento qualcosa gli ho messo anche questo pezzo questo aspettate questo pezzo qua che gira questo qua ecco se vedete quel pezzo rotondo possiamo andare avanti bene è una cabina per il pilota che è questa qua è il posto dove sparo non so come chiamarlo la canna si può alzare su e giù e muoversi a destra a sinistra avanti e indietro ecco fatto per ora è tutto ciao da Serezo 9 e alla prossima volta votate scusate commentate e mettete un bel mi piace ciao alla prossima volta